Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo. Siamo qui con Francesco naturalmente per parlare di Magia, Stragoneria e Paganesimo e oggi tratteremo un argomento che è abbastanza interessante di stragoneria che è atteggiamento Ratzinger perché se la stragoneria ignora ciò che succede nel mondo è meglio che si spani, intanto per essere chiari e avere le premesse abbastanza carine per questo. Allora cominceremo dopo a parlare della trasmissione, innanzitutto due appuntamenti nostri diciamo così interni del Paganesimo ed è qui a Radio Gamma via Bezzoni 9 in sala dibattiti il giorno 14 maggio, sabato 14 maggio alle 20 e 30 terremo il dibattito sullo scetticismo, il dibattito sul crociolo dello stregone, quello che ormai teniamo in serie. Io spero di finire di metterlo dentro perché fra una cosa e l'altra non riesco un altro fià più a respirare. Succedono cose strane nel senso che ti mandano un'email che apparentemente idiota, apparentemente non dice niente, poi questa email ti fa scattare la lucetta, ti fa scattare la lucetta e ti metti a buttare giù due righe, che non sono due righe ma sono centomila caratteri relativi alla manipolazione mentale e alle direttive sulla manipolazione mentale che ti arrivano dal Dio padrone dei cristiani. Una scoperta che ho fatto immediatamente grazie a un email abbastanza sciocca, diciamo così, che mi ha permesso di capire il senso di alcune parole che non avevo capito. E là c'è un lavoro che non finisce più. Non so, un giorno o l'altro mi sparerò perché non so, ho forza di lavorare, prima o dopo uno cede. E a quello sto lavorando. Comunque il dibattito è per il 14 maggio alle 20 e 30, sabato qui in sede Radio Gama 5 alle ore 20 e 30. Mentre invece per sabato 18 giugno, sabato 18 giugno, grande festa, grande rito presso il Bosco Sacro di Jesolo, dove praticamente eteremo il rito del sostizio d'estate. Sostizio d'estate che, vabbè, non ce la faremo per il rito del sostizio d'estate, però visto quello che è arrivato si potrebbe già pensare di cominciare a mettere la prima statua. Visto che qualcuno si è esposto finalmente, si può pensare di fare il primo addobbo. Naturalmente non è che ci siamo ancora arrivati, però insomma diciamo che ci manca poco, per cui è una cosa da prendere in considerazione. In ogni caso, il 18 giugno, presso il Bosco Sacro di Jesolo, terremo il rito del sostizio d'estate. Ricordo un'altra cosetta, che dal giorno 7, dal giorno 7 giugno, io e altre 4 persone siamo impegnati presso il congresso mondiale delle regioni etniche che quest'anno si tiene ad Anversa. Il tema del congresso è elaborare un elenco di risoluzioni in cui la discriminazione religiosa rispetto ai pagani venga portata all'attenzione della comunità europea, delle Nazioni Unite e del Parlamento belga. Anversa, vi ricordo che è in Belgio, lista di raccomandazioni per proteggere le religioni etniche, i paganesimi e così via. Questo è il tema del congresso mondiale delle regioni etniche. Naturalmente, essendo noi 5 su Ad Anversa, tutto il peso della campagna elettorale in quei giorni, o campagna elettorale, insomma, o esposizione di quello che è, di quelli che sono la legge sulla fecondazione assistita, ricadrà sulle spalle del povero Francesco, il quale purtroppo sarà lui a prendersi sulle spalle quel peso. D'altronde, noi le date, noi le stabiliamo noi, noi le date le subiamo e facciamo quello che possiamo. Non è che possiamo stabilire questo o quello. Io speravo di riuscire a portare, io ho già l'annuncio ai ascoltatori, e abbiamo dei buoni accordi con il Comitato Padovano, del Comitato di promozione del referendum di obbligazione sulla recondazione assistita. Purtroppo ci siamo messi d'accordo troppo tardi e non ce l'hanno fatta venire oggi. Penso che nelle prossime trasmissioni, affinché non arrivi quella dannata legge della par condicio, lì avremo ospiti, si parleranno delle tematiche, logicamente daranno un'importazione che non è religiosa, daranno un'importazione si chiamiamola politica o tecnica, ma già comprende la dimensione tecnica, dell'atrocità, della violenza, dell'imposizione che rappresenta la fecondazione assistita, questa legge. La legge è che appunto il 12-13 giugno si andrà a votare. Io sottolineo, invito a tutte le persone di sostenere questo referendum, di andare a votare e di renderlo valido, anche perché se notate il clima di intolleranza, di soprafazione, di violenza, di inquisizione monoteista sta sempre più salendo ed è sempre più forte. C'è sempre una tematica sempre più forte che impedisce o che vorrebbe cancellare la possibilità di discutere dei crimini di ogni monoteismo. E quando parliamo dei crimini di ogni monoteismo ricordiamo sempre cristianesimo, cattolicesimo, islam ed ebraismo. Ora questa violenza, questa imposizione si sta facendo ampio spazio. Di conseguenza anche la Chiesa Cattolica e i cristiani in particolar modo in Italia cercano di far fallire questo referendum, proprio perché considerano la legge la migliore possibile per loro. In realtà i fatti di cronaca, come la madre che si opponeva al fatto che la figlia abortisse, la figlia minorena abortisse, di fronte a un feto malformato e che di fronte a una perizia medica sosteneva che aveva causato danni sia fisici sia psicologici alla figlia, la madre per motivi religioni voleva opporsi e addirittura le prime visite al consultorio le ha completamente abbandonate e non si è neanche presentate. Questo è successo a Milano nel 2005, di conseguenza non in periodo di inquisizione. Come vedete è un principio religioso che si fa forte dell'imposizione della violenza sulle persone e sulla cancellazione dei diritti dei popoli di distabilire le proprie leggi. Ricordo che anche se non ho staccato i telefoni, non rispondo alle telefonate fino alla fine della trasmissione. Di conseguenza appunto il 12-13 giugno c'è il referendum e avremo ospiti gli amici padovani del commentato promotore per la abrogazione. Io spero che già da giovedì prossimo possano intervenire. Un altro piccolo appunto, vi ricordo che c'è sempre la dichiarazione di redditi, l'otto per mille, firmate per lo Stato. Non vi piaceranno i partiti allo Stato, non vi piacerà lo Stato, non vi piaceranno tante cose però ricordatevi sempre che firmate per lo Stato almeno decidete di sottrarre la vostra posizione da quella che è un versamento di soldi della Chiesa Cattolica. Firmare per lo Stato significa anche consentire che diverse opere, comunque tanto alla Chiesa Cattolica gli danno sempre i soldi o da una parte o dall'altra o per gli oratori o per questo o per quello soldi gliene arrivano distruggendo magari la sanità, distruggendo la scuola pubblica, distruggendo quello che sono il patrimonio sociale della nostra vita. Comunque è importante che noi separiamo la nostra azione, la nostra decisione soggettiva da quello che è l'insieme da cui si esprime. Per cui firmate per lo Stato. Ecco io voglio ricordare che non è vero che l'otto per mille dato allo Stato non serva perché l'ultima ripartizione dell'otto per mille, io ricordo abito a Marostica, nell'ultima ripartizione 300.000 euro dell'otto per mille dati allo Stato sono state destinate a restare delle mura di Marostica, tenendo conto che negli anni precedenti un contributo è stato dato per restaurare le mura di Cittadella, tenendo conto che piccole cifre sono state da piccoli comuni dell'Alto Vicentino per fronteggiare le frane per rendere paesi di montagna veramente minuscoli la possibilità agli abitanti di avere una strada agibile. Non sono grandi cifre però è importante che noi siamo consapevoli di vivere in una società, di vivere in un insieme e di distribuire per quello che possiamo. È chiaro che non cambiamo il mondo, le singole persone non cambiano niente le cose, però l'ho fatto, cioè è una cosa che voi potrete dire in futuro, io ho firmato per lo Stato, io ho deciso di non dargli la Chiesa Cattolica e questo è importantissimo per noi stessi più che altro. Bene, abbiamo detto tutto Francesco? Sì beh, tutto. Tutto, no, vabbè, dei nostri appuntamenti allora il 14 maggio qui a Radio Gamma 5 in sala dibattiti, col dibattito sullo scetticismo e il 18 giugno a Bosco Sacro di Iesolo per il rito del sostizio d'estate. Allora, dunque, io per parlare di Ratzinger ho due cosette oggi. Una a proposito della polemica che c'è sul relativismo. Vi ricordo che Ratzinger, prima ancora di essere eletto, ha fatto una campagna elettorale, questo ha avuto vent'anni per prepararsi e per essere diventato papa, e in questa campagna elettorale ha fatto delle dichiarazioni relative a un relativismo che sarebbe la cosa più pericolosa per la Chiesa Cattolica, più pericolosa di anarchici, di libertini, di marxisti, di qualunque cosa sia successo finora. Ha fatto un accenno anche ai lupi. Ha fatto un accenno anche ai lupi? Sì, ha detto non lasciatemi solo di fronte ai lupi. Ah, ecco. Bene. Sappiamo che all'interno del cristianesimo il lupi è il segnale del paganesimo. Ricordiamo che cosa si dice nella Messa Cattolica, fa che il buon pastore difende il greggio dal lupo che disperde il greggio e rapisce le pecore. Ecco. Comunque, siccome la cosa l'hanno capita in molti, ci sono tutta una serie di articoli fra cui uno di questi, che vi leggerò, scende in campo Simmako. Chissà perché questa figura di questo ultimo senatore pagano dell'antica Roma è ancora un fantasma che chiaramente sta distruggendo, sta rovinando le notti insonni dei cristiani. Comunque avevo intenzione di fare questo, però mi sa che se io faccio questa cosa qua soffoco completamente la trasmissione. Nel frattempo è arrivata un'altra cosa, mi è arrivata l'attività pederastica di Ratzinger. Bella questa. Ed è arrivata in maniera... Non è che sia la Chiesa Cattolica se sia stenuta, perciò... Le notizie che ci erano arrivate da fonti interne dei vari seminari ci dicevano che Ratzinger praticava la pederastia. Chiaramente sono voci, però che queste voci arrivino proprio a noi, in un circuito, guarda caso del Veneto, dove molta gente è stata nei seminari e se ne è uscita per varie cose, chiaramente la cosa è un po' pesantina, cioè è una cosa da tenere attenzione. Chiaramente sono voci che hanno il tempo che trovano. Il problema è che queste invece che arrivano non sono voci, questi sono articoli, articoli tratti dai maggiori quotidiani che sono inglesi e se l'observer è il guardian e l'indipendente. L'observer è un supplemento del guardian e l'indipendente sono i due principali quotidiani dell'inglese, insomma. Per cui non sono notizie da poco e io direi di cominciare con questo. Tieni presente che nel scaricarmi questo articolo che ha mandato Franco in lista, mi sono scaricato anche altri articoli vecchi, sempre dell'Espresso, riguardo proprio agli argomenti che tratta questo articolo. E allora direi di incominciare con questo, tanto per sapere chi è Ratzinger, perché altrimenti non lo inquadriamo in maniera corretta. I sudditi anglicani di sua maestà non ci pensano, ah è stato tratto dal sito www.dagospia.com barra round.hpp3. Per cui se qualcuno vuole andare a vederselo cerca Dagospia e se lo trova. I sudditi anglicani di sua maestà non ci pensano due volte a fare le pulci. E che pulci? Al pastore tedesco? Benedetto XVI. Sull'observer, supplemento del guardian, e sull'indipendente, i due principali quotidiani della sinistra britannica, compaiono due articoli pesantissimi sul nuovo pontefice. In breve, e in greve, si accusa l'allora cardinale Joseph Ratzinger di aver garantito la protezione al padre Marcial Marciel de Gollado, fondatore dei legionari di Cristo, accusato di molestia sessuale e pedofilia nei confronti di ex appartenenti all'ordine, nato in Messico nel 1941. E ora c'è chi vorrebbe denunciarlo per ostruzione alla giustizia. Ratzinger avrebbe salvato il religioso nella sua veste di prefetto della congregazione per la dottrina della fede. Congregazione per la dottrina della fede, ricordo che non è altro che la santa inquisizione di Torquemada e di tutti i macellai che nella storia hanno massacrato milioni e milioni di persone indifese. tanto per essere chiaro. Ratzinger avrebbe salvato il religioso nella sua veste di prefetto della congregazione per la dottrina della fede su esplicito invito di Giovanni Paolo II, legatissimo a Marciel de Gollado, coetaneo del defunto pontefice. Il tutto sarebbe nero su bianco in una lettera inviata a tutti i Vescovi Cattolici nel maggio del 2001 che l'Observer si vanta di avere in possesso ma che abbiamo scoperto e da tempo su internet nella traduzione inglese al sito www.bishopcontability.org, resources, resources, file, churchdos, spiritualenglish.htm è lungo però li trovate su internet tutte queste cose. Fra le altre cose, nella missiva, il cardinale Ratzinger dava ordine che la Chiesa investigasse in secreto sulle accuse di abusi sessuali su minori, tenendo i risultati dell'inchiesta confidenziali per dieci anni dopo il compimento della maggiore età della vittima. In pratica che la Chiesa Cattolica investigasse e insabbiasse, cioè non consegnasse i carnefici alla giustizia ma proteggesse i carnefici finché le vittime non avevano compiuto dieci anni nella maggiore età cioè quando praticamente i carnefici non erano più punibili. Ed è vergognoso questo, cioè se a voi vi piace così fate un po' voi. Malgrado siano passati decenni le accuse sono ancora portate avanti da tre professori un insegnante, un avvocato e un ingegnere e persino un prete. Tutti ex appartenenti all'ordine che accusano il religioso di molestie avvenute negli anni 40, 50 e 60. Ed è proprio da una lettera di uno di loro, padre Joan Vacca, allo stesso Marciel de Gollado inviata al Vaticano nel 1997 che è iniziata l'inchiesta. Un'inchiesta che però è rimasta al palo. La lettera di padre Vacca giunse nelle mani di Ratzinger dal vescovo di New York, John R. McCann e il suo contenuto, alcuni stracci dei quali sono stati pubblicati dall'indipendente, lascia pochi dubbi. Tutto quello che ha fatto contraddice la Chiesa e l'ordine. Quante innumerevoli volte mi ha svegliato nel cuore della notte abusando della mia innocenza. Quattro anni dopo, nel 2001, arriva la lettera di Ratzinger ai Vescovi che prevede che la Chiesa abbia l'assoluta giurisdizione su casi di abusi tra un membro del clero e dei minorenni. La funzione del giudice, del procuratore, del notaio e del rappresentante legale possono in questi casi essere rappresentati efficacemente da preti. Casi del genere sono soggetti al segreto pontificio. In pratica, segretare il fatto che i preti stuprano i bambini. Questo è Ratzinger. La pena per la rottura di questo vincolo di segretezza sempre decisa da Ratzinger e da Voitila è severa e può arrivare alla scomunica. Oltre alla firma dell'attuale Papa c'è anche quella dell'arcivescovo Tarcisio Bertone che in un'intervista di due anni fa riportata dall'Observer diceva, secondo la mia opinione la richiesta che un vescovo sia obbligato a contattare la polizia per denunciare un prete che commette atti di pedofilia non è fondata. Cioè praticamente non devono andare in galera non si devono denunciare. è legittimo per la Chiesa Cattolica commettere atti di pedofilia nei confronti dei bambini. Questo è Ratzinger. Fa parte della libertà religiosa e la loro libertà religiosa. Esatto, che libertà religiosa per loro significa libertà di stuprare bambini. Andiamo avanti ancora. Ma la lettera fa ora parte dei documenti in possesso di una corte texana dove l'avvocato di due presunte vittime di abusi da parte di un prete ha depositato le accuse contro una chiesa del luogo e lo stesso Ratzinger sostenendo l'attesi che l'allora cardinale si sia reso colpevole di ostruzione alla giustizia. L'avvocato è Daniel Seah noto alle cronache per aver scoperto negli archivi vaticani due anni fa in pieno scandalo preti pedofili in America un documento in latino risalente al 1962 con tanto di sigillo di Papa Giovanni XXIII ricordate quel documento che vi abbiamo letto in cui il Papa Buono dei Cristiani Giovanni XXIII scomunicava tutti coloro che denunciavano i preti che stupravano bambini ecco il Papa Buono proteggeva i preti che stupravano bambini quello della carezza dei bambini poi a questo punto ce la domandiamo quella carezza dove era o cos'era fu spedito a tutti i vescovi del mondo per istruirli a tenere ben nascosti i casi di violenza sessuale all'interno della chiesa massima segretezza era quello che la chiesa di Roma chiedeva ai propri prelati in materia di abusi sessuali nulla doveva venire a galla tutto andava nascosto nei minimi dettagli con la minaccia di scomunica per coloro che non rispettavano l'imposizione praticamente la stessa posizione sostenuta nella lettera di Ratzinger nel 2001 SEA segue da diversi anni i casi di pedofilia che vedono coinvolti dei prelati e ha deciso di far mettere gli atti la missiva di Ratzinger perché sostiene parla da sé perché quel divieto di divulgare le notizie per dieci anni dopo che la vittima è maggiorenne prima impongono procedure di segretezza su casi del genere così le forze dell'ordine possono agire solo se scoprono il caso per proprio conto ma non puoi aprire un'inchiesta se non ne vieni informato se ordini di tenerlo segreto per dieci anni al compimento della maggiore età il colpevole la farà sempre franca soltanto lo scorso dicembre il Vaticano ha dichiarato ufficialmente che avrebbe aperto un'inchiesta e un mese dopo guarda caso Marseille si è rimesso dal vertice degli giornali di Cristo e il portavoce delle vittime che ancora chiedono giustizia si è detto convinto che la decisione di aprire formalmente l'inchiesta che peraltro non ha finora raggiunto alcun risultato sarebbe stato un modo per Ratzinger per assicurarsi dei voti fondamentali per la sua scesa al soglio di Pietro cioè praticamente questo Ratzinger è stato eletto ricattando le persone sugli abusi sessuali che i vari vescovi avevano fatto cioè non so se vi rendete conto cosa significa questo sto Ratzinger aveva in mano tutte le prove di tutti gli abusi sessuali fatti dai cardinali sui ragazzini e dopo quattro votazioni è stato eletto Papa se so fate un po' voi beh basta pensare al caso anche più famoso che durante le varie messe infinite messe che ha voluto subirci per la morte di un Papa loro il cardinale di Boston che ha dovuto dimettersi in cui la diocese appunto ha pagato messimo 80 milioni di dollari per un po' di processi consente di processi di pedofilia è stato giustamente incaricato di celebrare la messa in memoria di Giovanni Paolo II e nessuno ha trovato anomala la cosa no solo due persone solo due cattolici due cattolici americani sono andati a contestarlo solo due persone i bravi cattolici italiani comprendendo che la pedofilia è parte elementare e basilare dell'insegnamento cristiano perché ricordiamo che si è pedofili nella chiesa cattolica su un insegnamento di Cristo su un modello su esempio e tra l'altro esistono anche casi di pedofilia abbastanza chiari e equivoci per un certo Sant'Antonio da Padova lo stesso Gesù di Nazareth viene arrestato con un ragazzino nudo che cosa ci faceva con un ragazzino nudo il pazzo di Nazareth domanda è grave ma molto grave e di conseguenza abbiamo sempre una continuità diciamo dottrinale consolidata ed è giusto che una tradizione così consistente abbia da continuare nella sua tradizione che non deve essere cambiata d'altronde la base della violenza è la base di ogni monoteismo e di conseguenza ogni monoteismo porterà violenza al di là delle connotazioni geografiche storiche che possa assumere cioè il monoteismo si presenta nella nostra realtà nel nostro mondo come violenza la perseguita la porta avanti la sostiene la codifica la elabora la giustifica e diventa il mezzo di imposizione sulla cultura sui popoli sulle persone di modo di fare da questo principio di violenza arrivano molti fatti anche di attualità vedete una volta io appartenevo a sinistra rivoluzionaria effettivamente mi sono fatto un mazzo in tutta la sinistra e oggi come oggi vedere i partiti di sinistra che tutto sommato se ne sbattono altamente i coglioni la pederastia dei danneggiamenti sociali dell'odio che arriva per istituzioni di leggi fatte con una superficialità che è degna non so dal mio punto di vista è che è stato un nazista magari qualcuno non è d'accordo cioè effettivamente mi fa schifo cioè effettivamente vedo che c'è questo disprezzo per quello che è la società civile e in realtà quello che sto verificando è che a un certo punto quando io e Francesco ci giriamo indietro ci accorgiamo che non c'è nessuno cioè in realtà tutti vengono meno a quello che è anche un dovere sociale anche un dovere di etica morale un dovere costituzionale perché in fondo cosa volete che sia sparare nella psiche dei ragazzini in fondo non è niente cosa volete che sia cosa sono queste bestiame queste bestie che pretendono di non essere sparate nella psiche volete mettere quanto orrore a quel ladro che è andato a rubare nella casa di X di Y che disperazione si possono fare prime pagine o la gente che fuma o la gente che corre in autostrada o che corre in autostrada si possono fare prime pagine sono dei criminali si può sparare tranquillamente nella psiche questo è il disprezzo che ho maturato in questi anni per i partiti di sinistra perché in realtà non hanno una coscienza civile cioè non hanno una coscienza della vita e questo mi fa rabbia cioè mi fa molta rabbia pensare al fatto di aver affrontato molte cose molti rischi e molte cose pesantissime nel passato per riuscire a ottenere diciamo così una società civile migliore e trovarmi oggi questo tutto sommato c'è l'amore per la vita cioè c'è l'amore per la società civile e vedi invece attorno un mondo che si chiude su se stesso e che ha disprezzo per le persone ed è una cosa che angoscia beh vuoi una conferma di questo qua allora vi leggo una letterina che ha fatto Silvia Ronchei Silvia Ronchei è quella che ha fatto vari libri sull'Arizoli con un'intervista a Ilman ed è docente di filologia classica e civiltà bizantina all'università dei studi di Siena ecco io vi leggo vi ometto i partiti e perché così qualcuno non si aggrappi a delle sciocchezze ed è una lettera al direttore le dice il senso della vita passa anche dalla contraccezione scrive alla direttrice appunto di io donna dice sembra sia passato un'eternità da quando ricordi le donne giravano con gli zoccoli neri gridando l'utero è mio e lo gestisco io lo pensavamo così ovvio che tanta furia nel proclamare ci appariva per solo superflua poi il post femminismo la parola utero è stata studiata da corpo e anche lì ci pareva una banalità poi i tempi sono cambiati se la chiesa cattolica avesse allora proclamato che il corpo femminile è un bene collettivo avremmo trasecolato adesso nella gara tra destra e sinistra il fanatismo di cui venivano con le altre femministe si è trasferito nei neocon così dogmatici e in tutto pronti a intendire il passo alla scienza ci si è persino chiesti se la 17enne milanese che dolorosamente ha abortito un feto come affronti gravissime non dovesse venire costretta a continuare la gravidanza come voleva sua madre ometto il nome della persona ha recentemente dichiarato di aver abortito il settimo mese un feto che non sarebbe nato sano ma è contro la povera minorenne che molti sono insorti a difendere la vita del nascituro un partito di governo ha perfino cito la sigla così ha perfino proposto di abbassare la scadenza temporale dell'aborto terapeutico ma il vero problema è un altro proprio mentre alcuni settori della chiesa si propongono di ammettere l'uso del preservativo e questa è una palla commento mio i nostri politici a forza di improvvisarsi teologi e disquisire sull'anima dell'embrione hanno perso di vista l'unico problema concreto la contraccezione soprattutto nel mondo femminile lo stesso mondo che privo di riferimenti si è stretto in massa attorno al cadavere del papa beh era un cadavere anche da vivo comunque questo è sempre un commento mio ma si sa c'è sempre chi è più realista del re e sempre a spese dei più deboli sempre a spese dei più deboli ha filmato Silvia Ronchei questa appunto è la dimostrazione del clima non percepito da noi che noi potremmo dire esageriamo questa è una docente universitaria che ha scritto un sacco di libri e lei si rende conto di come ormai tutta la classe politica a parte fatti inclatanti di creazione inclatante ma vedi c'è sempre il più moderato e il più estremista questo non è un problema è che tutti quanti sono schierati appunto per una certa direzione ma vogliamo dare un clima ancora di più di intolleranza venendo a fare dei concreti fai tranquillo vai allora vi riporto un fatto letto da due angolazioni una è la lettera del chi ha denunciato la cosa e dopo l'articolo che spiega quello che la lettera omette allora è apparso domenica 24 aprile sulla Repubblica ed è firmata dall'onorevole Valdo Spini salto la parte iniziale comunque leggiamo la parte interessante domenica 3 aprile giornata successiva alla morte di Giovanni Paolo II l'arai abolito senza previa comunicazione il culto evangelico del 7.30 di mattina una trasmissione che pare seguita da circa 1.400.000 persone e che rappresenta l'unico veico di partecipazione al culto per chi non può uscire di casa altri impegni o semplicemente non abbia visto una chiesa evangelica successivamente il 20 aprile la Cipra concessionaria per la pubblicità della RAI di intesa con RAI Trade ha respinto la pubblicità a pagamento inviata dalla tavola valdese per la campagna radiofrodica dell'8 per 1000 malgrado fosse stato stipulato un regolare contratto dopo che la stessa tavola valdese aveva rifiutato di modificare lo slogan preparato un fatto che mette la chiesa valdese in posizione di inferiorità rispetto a chi nella stessa pubblicità è stato ammesso so bene che non è moda occuparsi di queste piccolezze ma credo che si tratti di fatti da denunciare subito perché non avvenga che qualcuno scampi il giusto omaggio a un grande papa e a sua chiesa come una scusa per non rispettare doverosamente il pluralismo religioso questo lo dice un deputato ma andiamo ad analizzare quello che il deputato non dice o che forse il giornale ha tagliato e cambiamo conteniamo prendiamo il Corriere della Sera bocciato lo spot dei valdesi è una censura valdospini prepara un'interazione parlamentare sulla bocciatura della rai dello spot dell'8x1000 alla chiesa valdese e accusa qui è in pericolo la libertà di espressione religiosa tutto nasce da uno spot radiofonico che invoglie i contribuenti nemmeno un euro viene utilizzato per attività di culto questo è lo slogan messaggio già trasmesso lo scorso anno e aggiunge uno slogan aperte virgolette molte scuole nessuna chiesa la sipra l'intesa con rai 3 lo ha bloccato perché aperte virgolette il codice deontologico vieta valutazione di crato ideologico e religioso troppo polemico contro la chiesa cattolica sussurrano i vertici in rai ma i valdesi scrivono al direttore generale cattaneo il nostro intento era sia il nostro intento era già nell'intesa con lo Stato quello che non si vuole trasmettere è il richiamo alla legge questi sono due fatti che sono avvenuti nell'Italia del 2005 nel mese di aprile in cui vi rendete conto il livello di inquisizione che si sta facendo e voglio ricordare che in tutta questa bagarre clericale cristiana cattolica è stato ed è giusto ricordarli l'onorevole valdospini che ha denunciato questa cosa e ricordate che hanno considerato offensivo la frase molte scuole nessuna chiesa l'hanno considerata offensiva ma non è che facciamo la scuola pagana facciamo la scuola valdese i valdesi hanno nella loro tradizione le crociate che hanno subito sa da benissimo cosa è l'inquisizione però hanno trovato purtroppo un unico onorevole che li va riconosciuto in merito a valdospini che ha denunciato questo ma questa è una forma di censura intollerabile anche perché la tavola valdese ha un accordo con lo stato dice noi rispettiamo le leggi vogliamo farle rispettare pur di non mettere in situazioni spiacevoli la chiesa cattolica e i cristiani gli hanno tolto addirittura la pubblicità a pagamento e non era la pubblicità di radiogramma 5 o di questa trasmissione era la pubblicità della tavola valdese tanto per dare un'idea di come la circolazione e voglio ricordare fra i politici questo è l'unico onorevole che si è mosso in questo senso si è stato un unico senatore il senatore dei benedetti che ha protestato contro la bagarre il fatto che il presidente del senato un certo opera abbia dichiarato che ormai l'italia è solo una parrocchia del vaticano in sostanza ecco mille fra deputati e senatori di mille fra deputati e senatori sono due hanno avuto il coraggio di chiedere il rispetto dei cittadini che non siano cattolici o cristiani in effetti io farò nella trasmissione di questa sera in realtà Razziga sta preparando questa cosa e si sta preparando naturalmente il diritto di stuprare i bambini il diritto di stuprare i bambini e nessuno glielo contesta questo è ancora più grave sto tentando veramente distruggere una società che dopo abbiamo verificato la società civile ha già verificato in Spagna che è sufficiente che un governo sia se stesso cioè che un partito politico sia se stesso con le proprie idee e anche con i propri limiti chiaramente o anche con i propri obiettivi perché la Chiesa Cattolica batte in ritirata e batte in ritirata esattamente fra i cittadini e non solo in Spagna questo si è dimostrato ma si sta dimostrando pesantemente anche in Portogallo in realtà basta applicare le leggi basta applicare questa costituzione basta applicare le leggi di questa nazione perché in effetti vengono riconosciute quello che è il diritto dello Stato cioè il diritto di quello che è l'applicazione del dettato costituzionale purtroppo ci si dimentica troppo facilmente che esiste un dettato costituzionale e purtroppo esistono persone pronte a qualsiasi vigliaccata pronte a qualsiasi porcata e poi vigliaccata e porcata sono termini ma in realtà si tratta di veri e propri atti di disarticolazione istituzionale perché quando si fanno delle sentenze o quando si parlano di provvedimenti in aperta in aperta violazione quello che sono le norme dettate dalla Corte di Cassazione nell'interpretare le leggi o dettate dalla Corte costituzionale nella realtà delle leggi che decide la realtà fattiva della legge chiaramente qui si tratta di personaggi che sputano sulla Corte di Cassazione sputano sulla Corte Costituzionale e fanno effettivamente attività eversiva e l'attività eversiva è un reato grave solo che sembra che a sto punto in Italia ci sia qualcuno che abbia dei diritti di fare delle versioni dell'ordine costituito perché è di una gravità enorme cioè le leggi noi viviamo in un sistema in cui la legge è uguale per tutti cioè non è che il Dio Padrone si sottrae alla legge non è che questa lobby o quella lobby si sottrae alla legge sono benissimo i rapporti di forza che fanno parte anche di quello che è un circuito sociale però i rapporti di forza non devono prevaricare le leggi o imporre delle cose diverse alle minoranze beh sai le leggi sono le leggi sono le leggi e sono gli uomini le persone i popoli che li vanno ad applicare questo di conseguenza qualsiasi legge è inadeguata rispetto alla qualità delle persone e la qualità dell'animo delle persone e perciò potremmo avere tutte le leggi eleganti belle e simpatiche che vogliamo in realtà se non sono persone che hanno un concetto di cittadini ma si sentono sudditi si sentono grezze queste leggi sono soltanto carta stracci cioè è sempre la qualità dell'uomo dei popoli degli individui delle comunità che cambia le cose una comunità che ha un retto giusto sentire può anche avere quattro leggi può avere anche quattro regole può anche non averle ma se riesci a vivere ed essere comunità la sua assistenza come comunità è più che sufficiente per permettere ma il problema è la qualità umana si però si creano dei problemi partendo da degli assunti che sono preconcetti noi abbiamo un problema adesso che è un po' l'ordine del giorno il discorso delle merci tessili che arrivano dalla Cina in maniera così pesante però in effetti questa situazione che si sarebbe verificata si conosceva già tre o quattro anni fa c'era da tre o quattro anni che c'era di accordi con il VCO per la tratta della Cina per cui sapevano tutto i giornali in realtà hanno parlato della Cina hanno considerato la Cina chiaramente un paese antagonista hanno considerato qualcosa di diverso non ne hanno parlato arriva Ciampi in Cina scopre una situazione completamente diversa e in realtà i giornalisti per i loro preconcetti hanno lasciato indietro gli industriali italiani e hanno creato dei casini ma sai sarebbe bastato leggere nel 33 Spengler io l'ho letto negli anni 70 Spengler l'autore del libro Tramonto dell'Occidente scrive un libro che si chiama Anni della Decisione 1933 pubblica questo testo e dice che nel futuro il problema dello scontro sarà quel mondo cinese cioè l'ha detto nel 1933 Spengler è considerato uno degli storici della fenomenologia della civiltà maggiormente conosciuto tradotto da Furio Iesi in Italia insomma che questi giornalisti per questione di pensare alla Cina come un paese di vent'anni fa come un paese ancora maoista praticamente hanno taciuto informazioni nella paura di far propaganda alla Cina perché a un certo punto questo è il discorso per paura di far propaganda alla Cina hanno taciuto le informazioni di sviluppo economico a sto punto noi abbiamo in Cina 300 milioni di persone che sono in grado di permettersi di venire a viaggiare in occidente se lo volessero e che pensiamo che 300 milioni di persone non esistono neanche in Europa cioè abbiamo una potenzialità di mercato che va oltre l'intera Europa il problema è che noi abbiamo una visione mercantile il problema è la visione mercantile insomma si può sempre contraddistinguere lo stesso Marx quando andava a formulare delle società diceva sono stati capitalistiche e le società pre-capitalistiche che lui li metteva in una semplice formula diceva sono stati capitalistiche lavorano per avere merce per avere denaro per avere merce cioè avere un metodo di scambio di un bene reale concreto e godibile utilizzare dalle persone le società capitalistiche fanno denaro per avere merce per avere denaro di conseguenza un bene che non può essere speso e che dà la misura delle cose in realtà le società capitalistiche è la merce le capacità dell'artigiano è la qualità del prodotto che determina questo ma se noi lasciamo le cose in mano a concetto di mercato puramente commerciale le logiche sono altre comunque sta di fatto che ormai le persone vanno a studiare a Shanghai perché è la migliore università economica che esiste a livello mondiale e noi non lo sappiamo cioè capito non lo sappiamo se non sappiamo che esiste un mercato esiste una potenzialità e si potevano trasferire o fabbrica oppure fare la produzione in maniera diversa oppure parlarsi il curo prima però non gliene ne fotteva niente nessuno cioè le condizioni di propaganda sono superiori a qualunque opportunità che puoi dare al paese ma io mi ricordo sempre ci fu nel 1981 un convegno tenuto in Svizzera ammanazza segreto in cui i potenti del mondo dissero il futuro del mondo fra pochi anni saremmano 300 multinazionali ed è quello che è avvenuto e nessuno ha informato su questo insomma di conseguenza il problema non sono le leggi e le capacità delle persone perché io cito sempre in positivo un grande per il modo di fare che fu Gandhi al di là del concetto di non violenza però Gandhi sviluppò un concetto interessante che fu quello del contrapotere cioè disse che senso ha che noi facciamo una guerra con una potenza mondiale come l'Inghilterra che è un esercito quando noi non siamo abitati a combattere qual è la forza nostra è la gira del singolo individuo cosa fece lui di grande disse va benissimo la potenza dell'Inghilterra è il sale e organizzò la Marsa del sale in cui portò migliaia di persone e milioni di persone a estrarre dal mare il sale e utilizzare il sale per la loro vita qual è la potenza del commercio inglese è il tessuto e lui inviò la campagna in cui ognuno si faceva il proprio tessuto il proprio abito e di conseguenza mise in piede dal punto di vista economico un impero come quello inglese dice della dimostrazione che l'iniziativa del singolo legata a quella degli altri riesce a fare qualcosa e Gandhi è stato un grande in questo insegnamento cioè bastava poco bastava soltanto la capacità delle persone di scegliere di fare di agire in prima persona di non delegare ma di creare un qualcosa e di queste cose potevano essere cambiate bene andiamo avanti con pochi di accusatori di Marsiella va bene anche perché è bene tenere sempre questo coltello nella piaccia perché se non lo teniamo noi che abbiamo coscienza o consapevolezza di quello che è la società civile né partiti di destra né quelli di sinistra né altre forme di religione ci pensano a questo anche perché sembra che qualcuno vada molto d'amore d'accordo con i cattolici in fondo basta spartirsi no? gli elenco degli accusatori del signor Marsiel amichetto di Giovanni XXIII e di Ratzinger li troviamo da un articolo dell'Espresso che l'Espresso ha fatto quando l'ha fatto questo articolo alcuni il 21 gennaio 1999 ecco qua in ordine alfabetico Félix Alarcón 65 anni sacerdote a Venice in Florida nel 1965 aprì la prima base dei legionari negli Stati Uniti nel Connecticut questo Félix Alarcón questo prete accusa Marsiel di stupro di minori di stupro di minori l'amichetto di Giovanni di Giovanni Paolo II e di Ratzinger di stupro di minori Alejandro e Spinosa alcala 61 anni messicano imprenditore agrario questo signore accusa Marsiel amico di Giovanni Paolo II di Ratzinger di stupro di minori Arturo Iurado Guzman 60 anni professore del dipartimento di linguistica della scuola superiore del ministero della difesa dei Stati Uniti a Monterrey in California questo signore accusa Marsiel amichetto di Giovanni Paolo II di Ratzinger di stupro di minori Fernando Perez Olvera 64 anni ingegnere di Monterrey in Messico questo signore accusa Marsiel amichetto di Giovanni Paolo II e di Ratzinger di stupro di minori José Antonio Perez Olvera fratello del precedente 61 anni avvocato di città del Messico questo signore accusa Marsiel amichetto di Giovanni Paolo II di Ratzinger di stupro di minori Joan Vacca 61 anni dirigente scolastico a Holbrook nello stato del New York già sacerdote e presidente fra il 1971 e il 1976 dei legionari di Cristo negli Stati Uniti questo signore accusa Marsiel amico di Giovanni Paolo II e di Ratzinger di stupro di minori a questi va aggiunto Joan Manuel Fernandez a Menabar che il 6 gennaio 1995 un mese prima di morire dettò una memoria accusatoria negli anni 80 come sacerdote era stato presidente dell'università Anahuac del nord a città del Messico la più importante università di legionare di Cristo e in più c'è il caso di Miguel Diaz Rivera 64 anni altro ex sacerdote legionario oggi professore Ahuac Zaca in Messico anche egli ha formulato accuse simili a quelli degli altri ma i primi di febbraio del 97 un mese dopo averle formalmente depositate le ha ritrattate dichiarando di essere stato incoraggiato da ex legionari a dire il falso questi sono i signori che accusano Miguel Marsiel amico di Giovanni Paolo II e di Ratzinger di stupro di minori cioè non è uno sconosciuto come quel ragazzo di Catania che supplicava di essere creduto questi sono personaggi che hanno anche una storia e hanno anche un curriculum non indifferente riflettete su chi è stato eletto al posto di Voitila e che continuità sta dando l'attività di Voitila il monotipo da quando è compasso è sempre stato violenza nel senso che non serve da meravigliarsi insomma cioè le persone che fanno le campagne pubblicitarie sul fatto di possibili cambiamenti il monoteismo non può cambiare non può essere alterato non può essere modificato ogni monoteismo è sempre incentrato sulla regolamentare chiudere bloccare le capacità dell'individuo di crescere ma anche delle popolazioni delle culture è una cosa che appartiene al monoteismo in tutti quanti i sensi in tutte quante le salse non è soltanto appunto una variante moderna ma è un elemento che contraddistingue il monoteismo dal suo nascere del suo affermarsi del modo in cui viene portato avanti di sostenere questo e perciò io non mi meraviglio di questa scelta c'è da qualcuno che dovrebbe essere un attimino più accorto di comprendere perché viene creato una forma pubblicitaria così forte così consistente così consistente e così dura per cercare di camuffare questo proprio perché c'è la necessità di portare avanti di proseguire cioè anche lo stesso scandalo di preti pedofili americani è stato anche insabbiato allontanato perché non è giusto turbare questo questo spirito ma ricordiamo che non stiamo parlando di sciocchezza non stiamo parlando di avanspettacolo di storie più o meno varie stiamo parlando di milioni di persone di milioni di bambini che sono stati violentati in tutta la storia i casi di preti pedofili sono centinaia negli Stati Uniti sono migliaia di bambini che hanno fatto denuncia delle violenze subite e logicamente la Chiesa Cattolica se vuole definirsi cristiana se vuole mantenere fede all'insegnamento di Cristo può compiere solo atti di pedofilia ed è questo che se poi una parte dei cattolici una parte dei sacerdoti non lo fa è perché le forme di inibizione culturale o ambientali sono così forti che fanno mantenere questo desiderio religioso puramente teorico però in altre parti esistono centinaia di sacerdoti che passano anche all'azione pratica ricordiamo poi che l'inquisizione non è mai cambiata è sempre presente ha sempre adeguato alla situazione in cui esisteva una cultura un ambiente una civiltà un paese che limitava i roghi o che impediva i roghi ma nel momento in cui tutti quanti siano pronti ad accettare i roghi diventano la funzione normale della regione perché è la purificazione di chi diventa eretico di chi si oppone di chi non ha niente di questo ricordiamo che Ratzinger ci fu polemica perché dichiarò che le altre religioni erano il regno dell'inferno benissimo se gli altri sono dei diavoli i diavoli vanno distrutti perché sono il male assoluto quando si viene quando Ratzinger usa l'assolutismo della dittatura del relativismo il relativismo non può mai essere dittatura assoluta perché non serve più se stesso eppure perché qualcuno gli disse ma non esiste la verità chi pensa di detenere la verità li fa la guerra e finché la cosa si può scontrare sul piano o della filosofia o della logica o della pratica siamo tranquilli ma ricordiamoci che gli altri pensano di avere una verità assoluta e di dovertela imporre e se tu non sei capace di capire la loro verità qualsiasi mezzo per salvare la tua anima viene fatto ricordiamo sempre che questo che Ratzinger quando è stato incoronato ha detto che lui è un umile servitore nella vigna del Signore